Oh, mamma mia, sono esausto. Vediamo cosa danno in TV. Partita, TG, Televendite. Oh, non c'è niente da vedere in televisione. Uh, è questo? Ehi tu! Dici a me? Dico a te, cappellone. Ti è mai capitato di dire non c'è niente in TV? Sì, giusto poco fa. Sei stanco delle solite partite, dei telegiornali, ma soprattutto delle televendite? Ah, ma come vuoi a saperlo? Mi stai spiando? No, sciocco, è il mio lavoro. Quale lavoro? Se mi dai qualche secondo te lo spiego. Ok, fai come vuoi. Se non hai niente da vedere, sintonizzati sul canale della Motion Tune. Ma è nuovo? Prego, le domande alla fine. Stavo dicendo... Che mi devo sintonizzare sul canale della Motion Tune? Esatto, il canale infatti... Ma che numero è? Devo rifare la risintorizzazione? No, Zuccone. Se non mi interrompi te lo dico. Oh, va bene. Vi chiederete dove sia il canale della Motion Tune. E basta, mi hai rotto. Ma il canale? Cercatelo da solo, mi sono staccato. Rudolf, portami subito un caffè a baro. Intesi? Agli ordini, capo. Ma il canale? Bufo signore? Dov'è il canale? Bufo signore? È ancora lì? C'è qualcuno in ascolto? Vuoi sapere dove è il canale? Bufo signore? Noi! Grazie a tutti.